Un impegno strategico condiviso è quello che hanno assunto ieri la regione Abruzzo, le province di Teramo e l'Aquila e gli amministratori dei comuni che insistono lungo il bacino idrografico del Vomano Mavone, che hanno dato vita al protocollo d'intesa per il contratto di fiume, uno strumento nuovo anche se già rodato in altre esperienze abruzzesi, attraverso il quale coordinare gli interventi sull'asta del fiume e sull'intero bacino idrografico, ma soprattutto accedere ai finanziamenti comunitari per gli interventi di messa in sicurezza, di risanamento dell'inquinamento e di mitigazione del rischio idrogeologico. I contratti di fiume che sono una novità per la nostra regione, istituita con la nuova giunta regionale, c'è una delega specifica ai contratti di fiume, un accordo negoziato tra enti per gestire il percorso di un fiume, soprattutto la tutela ambientale e idrogeologica, una serie di enti a partire dagli enti locali e quindi dai comuni che gestiscono le aste fluviale. Stiamo inaugurando una serie di contratti in questo senso tutta la regione. A fare gli onori di casa nella sala polifunzionale del comune di Pineto per la prima riunione del contratto di fiume, il sindaco Robert Verrocchio è l'ex primo cittadino, oggi consigliere regionale Luciano Monticelli. Per entrambi lo strumento consentirà di evitare anche il ripetersi delle alluvioni che hanno colpito in particolare la città di Pineto. È un primo passo importante, intanto un passo che attiene anche ad una nuova cultura, sensibilità verso il fiume Romano, dal punto di vista della sua pericolosità, dal punto di vista della qualità delle acque, dal punto di vista anche della sua valorizzazione. Oggi il fiume Romano tocca tantissimi comuni, ne sono oltre 20 presenti qua, alcuni dei quali addirittura sono aquilani perché questo fiume nasce nell'Aquilano e poi finisce qui sulla costa tra Pineto e Roseto. Proprio il nostro comune ha subito anche numerosi danni di esondazione, addirittura in alcuni casi non pioveva lungo la costa ed un'intera frazione è stata esondata dal fiume Romano. Diciamo che stiamo anche lavorando su una progettualità per quanto riguarda i depuratori perché sono importanti che sfociano spesso sui fiumi, lì già ci sono 170 milioni. Su questo è l'indirizzo che dobbiamo dare perché da soli le comunità non riescono ad essere forti e nei finanziamenti regionali e statali ma soprattutto su quelli europei. Quindi facendo massa con un unico progetto si ha anche più facilitati a questi finanziamenti.